segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te paio di cose che ha detto che naturalmente il suo nuovo movimento sarà pro alleanza atlantica pro europa a proposito di gilet gialli passato solo quanti anni sono passati due paio d'anni da quando lui e di battista andarono a incontrare gilet gialli in francia poi ha detto che comunque il suo progetto sarà un progetto che non si schiera e che però dice chiaramente no a populismi e sovranismi giusto così per avere ancora un petalo di questa ricca margherita di movimenti e partiti politici italiani si trova veramente mirabile che di maio sia passato dai gilet gialli all'oden già di mario monti con sprezzo della temperatura tropicale sembra un po una caricatura ce l'avessero detto qualche mese fa ci avessero riferito questo discorso avesse fatto crozza questo discorso di di maio qualche tempo fa non ci avremmo creduto il punto è che c'è un gioco di riposizionamento di leader di personalità ma non c'è una vera come dire un vero progetto per il paese quello che già caraccelo ma perché in fondo andare a votare la domanda era come dire lucidamente cinica non si vota perché non serve e questo è drammatico però perché e diciamo di maio che dice no ai populismi avendo costruito tutta la sua fortuna su quello che si può definire con la definizione da discutere discutibile ma che ormai si fa intendere populismo draghi ha detto che bisogna evitare di uscire dalla crisi presente alla crisi energia la crisi economica rialimentando il populismo questa convergenza mi dà molto da pensare perché si va alla conseguenza politica quello che si salta è quello che sta nel mezzo cioè non ci si chiede cos'è che ha creato consenso per il populismo la diseguaglianza la povertà la distribuzione iniqua della ricchezza le dichiarazioni che si affollano in questo momento si affollano tutte al centro questo grande campo in realtà è il centro cioè quello il vero campo la c'è un eclissi di sinistra totale e c'è anche un eclissi di progetto quello che diceva floris c'è bisogno ci sarebbe potrebbe essere bisogno di una destra è vero bisognerà di chiedersi quale destra una destra liberale una destra post fascista non si riesce a parlare di politica e siamo costretti a parlare di politici ma non è la stessa cosa e questo è il vero nocciolo del problema perché da una crisi come questa non si esce nello stesso modo si esce a destra si esce a sinistra cambia la vita della gente e il punto è parlare a quella metà del paese che sempre più ampia che non vota più perché non ci crede più in quella metà c'è anche la parte del paese che avrebbe più bisogno di cambiamento dal mio punto di vista la parte che sta sotto i sommersi non mi permetto di aggiungere un'altra crisi quella del centro c'è il centro dovrebbe essere un luogo dove si compongono le differenze invece abbiamo un centro radicale in cui ognuno dei leader del centro dice ci sto io tutti gli altri tutti gli altri collocamento dei leader tutti gli altri senza gli altri farò questo è il contrario del centro diciamo quindi mancano le soluzioni a sinistra destra il centro forse a sinistra il pd bisogna dire che qualcosa la sta proponendo un piacere ma soprattutto non è